Arrivati in cima al Monte Pizzo, colpo d'occhio imbarazzante, alto piano dello Schiller, le cime dello Hacker, come riconosciamo tutti, là in fondo Compach, sarà la sede della Running Shoe Experience Alpe di Siusi, da lì partiranno diversi percorsi, tra cui uno che arriverà proprio qui, forse uno dei posti più panoramici della zona, sul patrimonio dell'UNESCO e delle Dolomiti, il Cresta Erbosa che prosegue, poi andiamo a periziarla, ma da qua al ritorno sarà proprio il percorso dedicato allo Sky Running e al test delle scarpe, e non solo l'abbigliamento come sapete ormai. Oggi, test Mizzuno, sicuramente una buonissima scarpa, forse un po' pesante ancora, ma indubbiamente eccellente grip, tenuta la suola, il piede, la sua caviglia ferma, non gira, ma poi la scoperta di oggi, spero si veda, Revolution, avigliamento tecnico in lana Merinos, dove una rivoluzione di lana, come dice il nome, davvero importante, sicuramente un prodotto che farà la differenza.